Tre giorni. Buongiorno a tutti. Oggi è venerdì 21 ottobre. Ieri non c'è stata la nice session, per cui essendo le 11.43 iniziamo a fare determinati ragionamenti. Che cosa segnalavo ieri nel gruppo premium? Che chiuso, o almeno con la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un settimanale inverso, ovvero un sesto t-3 inverso, bisognava fare attenzione a che cosa ci riservava un potenziale rimbalzo. Ma, dicevo, prima di valutare rimbalzi, vediamo un attimo che tipo di discesa ci può essere. Perché? Perché non bisogna scalpitare. Quando chiude un ciclo a due giorni di inverso, ed eravamo già a 31 bar, avevamo raggiunto la media mobile, avevamo molto vicini al livello superiore della Kumu, bisognava aspettarsi, chiuso un t-2, che partisse almeno un t-3 inverso, e quindi che facesse discesa magari non così tanta, ma ne ha fatta più del necessario. Quindi aspettare per andare long, aspettare di swing, aspettare il tempo corretto, e non dare nulla per scontato, nulla per scontato, forse può aiutarci. Anche perché siamo sempre qui, bagliamo in questa zona qui, adesso siamo andati un po' più sotto. E quindi quanti giorni abbiamo, prima di andare a chiudere, che cosa? Prima di andare a chiudere il nostro t-2 inverso, e con esso il trimestrale inverso. Come diceva Sadako, non abbiamo sette giorni, per carità, ne abbiamo però al massimo tre. Perché tre? Caspita, scusa un secondo, qui però, caro Sadako, un momento, fammi lavorare. Qui siamo a 39, quindi se faccio 43 durata massima di un mensile inverso, meno 43, meno 39, quattro giorni. No, un attimo. E di questo settimanale inverso, del quinto, a quanto siamo arrivati? A otto. Quattro giorni in più, mi porta a 12 giorni di un settimanale inverso, no buono. Massimo 11, quindi solo più tre giorni. Tre giorni per cosa? Tre giorni per quello che ho disegnato. E guardate, è incredibile. Anche questa volta, sembra fatto apposta, potete rivedere il disegno nelle scorse puntate, è indicativo, però Bitcoin sta facendo esattamente quello che è stato disegnato. Non ho cambiato una virgola. Forse oggi troverò il minimo? A sto punto vediamo se la magia del grafico del multiverso ci aiuta. Io continuerei a tornare a ragionare di T-3. In questo caso, tornando a serie, a parte il ribadisco, fissatevelo. Tre giorni per fare il baffo. Qui siamo arrivati a 19 barre. Si potrebbe continuare a scendere fino ad altre 24? Siamo a 19. 24 si arriva come minimo alle 15.30. Quindi nel pomeriggio avremo già una risposta. Vogliamo capirci qualche cosa prima del pomeriggio? Qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per far partire il secondo T-3 già vincolato ribasso? O l'ottavo T-3 vincolato ribasso? O l'ottavo T-3 vincolato ribasso? Non mi sono incantato? Vi sto facendo ragionare. Chi conosce l'evoluta sa la risposta. Io la conosco la risposta. Voi la conoscete? Perché in ogni caso teniamo conto che ci può essere anche questa piccola possibilità. Ma è semplice capire se siamo in un'una o nell'altra. Se siamo nell'altro ovvero siamo ancora nel settimo T-3 che può aver fatto partire un T-1 in un ciclo a 4 giorni di media avremo una spinta forte andremo sopra il massimo a 19.093 punti poi eventualmente anche qui sopra a 19.142 punti eccetera eccetera. se invece non supereremo già questi due livelli è possibile che si abbia un ottavo T-3 anche oltre a un potenziale secondo T-3 magari ottavo T-3 perché ottavo T-3? Perché tempo ce n'è perché siamo alla 9 candela di questo settimanale ma si può arrivare anche a 11 però con 11 poi dovremmo avere un HFT che ci spara che ci spara dove? E che ci spara tanto su perché per chiudere un trimestrale inverso abbiamo bisogno di un sottociclo di 3 3 3 gradi inferiori 3 sempre 3 in questi sempre 3 3 gradi inferiori ribassista per chiudere il discorso 3 gradi inferiori significa che faccio T più 3 inverso meno 3 più 3 meno 3 fa non c'è più il 3 è 0 quindi T settimanale quindi un settimanale inverso ribassista è un settimanale inverso ribassista volete che ve lo disegni perché alcuni sono nuovi è così perché se l'inverso è ribassista i prezzi salgono e se prendiamo solo il tempo puro non abbiamo bisogno di tornare qui sopra che sarebbe il target più comodo in assoluto 19.947 dollari entro 3 giorni ce ne servono anche meno perché se continuiamo a lateralizzare o a fare quello che vogliamo qui abbiamo già questo massimo è a 684 no questo è 709 1 2 3 4 può fare 5 6 dove vuole e poi salire soltanto qui sopra e avere 6 giorni sotto un massimo chiudere con un baffino neanche più un baffo il trimestrale inverso il target naturale sarebbe come minimo i 13.631 dollari in realtà questo sarebbe l'ottimale 19.947 dollari fatto quello facciamo attenzione perché qui che cos'è partito allora a livello di tempo con 9 giorni è partito un nuovo mensile quale il potenziale secondo di questo trimestrale che per ora è un trimestrale già vincolato ribasso e che quindi che cosa ci porterà a fare rimbalzo per la chiusura del nostro tp3 inverso il baffo di salita e poi però se parte immediatamente un nuovo trimestrale inverso si scende spero in questo modo con semplici grafici di essere d'aiuto anche a chi non ha ancora studiato bene le volute e chi vuole comprendere bene che cosa stendersi perché tra t più t meno e tutto il resto aiuto all'inizio anche per me è stato veramente difficile imparare questo genere di cose ma abbiamo imparato a nuotare abbiamo imparato a guidare l'auto e all'inizio magari era difficile non riuscivamo a mettere il cambio poi la coordinazione col piede la frizione poi le marce poi però devo anche guardare non soltanto devo evitare di andare a sbattere quindi non posso guardare il cambio e poi ci sono i cartelli stradali e rosso verde le altre macchine oh un attimo io lo capisco che all'inizio non sia semplice e sia ostica come cosa però quando avete un obiettivo voglio imparare a nuotare voglio imparare ad andare in macchina mi serve per raggiungere altri obiettivi la macchina ok viaggiare ecco ci si mette l'impegno si fa se avete fatto quello esattamente come quando io sono partito da zero con la ciclica base quella di Hurst che non ci capivo niente assolutamente ma che vedevo gente che la utilizzava anche per il tramite del migliorino mi ha detto io voglio quei risultati lì voglio poter capire fino a quanto tempo ho per creare un massimo dove si può arrivare con un minimo come si muovono davvero i mercati e le criptovalute perché bitcoin sta facendo così piuttosto che cos'ha perché l'Azerbaijan ha combinato qualcosa perché il tasso di inflazione che non c'entra Tesla twitter che c'entra e perché mi dicono sempre in ritardo le cose io voglio sapere le prima mi devi dire prima se si sale o se si scende mi devi dare dei criteri per capire se andiamo su se andiamo giù devo investire in bitcoin ha senso investire in bitcoin solo come mero investimento rispetto ai mercati tradizionali che non mi obbligano a fare trading o avere la testa sveglia tutta la notte perché sono aperte 24 ore su 24 le criptovalute tradano 24 ore su 24 e nei weekend cioè il sabato e la domenica devo essere comunque attivo a guardare che il mio investimento non vada in malora ma non posso guardare solo i mercati tradizionali che che almeno è da lunedì al venerdì soltanto dalle 9.01 alle 17.30 o negli altri orari per gli Stati Uniti non posso avere una roba più semplice da poter gestire come tempo perché tanta gente si è buttata sulle cripto per un semplice fatto che wow guadagni miracolosi anche perdite miracolose poi se siete dalla parte sbagliata e se non si ha qualcuno che il 16 di novembre vi dice guardate che 16 di novembre dello scorso anno guardate che non si va to the moon ok perché se quello che cercate non mi interessa il vero valore delle cripto e della blockchain e delle blockchain la decentralizzazione e tutto il resto guardate che potete fare guadagni eccezionali ma anche perdite stratosferiche alzando un po' la leva o le size degli strumenti che utilizzate per fare trading su Mib DAX S&P500 Nasdaq tutto quello che volete non dovete stare svegli 24 ore su 24 e attenti 7 giorni su 7 mollando la fidanzata la famiglia il compagno tutto quello che è c'è nessun obbligo noi abbiamo fatto di nuovo ieri un'ottima operazione siamo andati long abbiamo guadagnato qua chiuso trade finito niente da fare stessa identica cosa per chi ha voluto valutare questa operazione qua non si è obbligati se non è una questione di essere odler e di credere nel progetto avete capito noi guadagniamo molto più rapidamente su altri mercati rispetto a bitcoin soprattutto quando fa queste fasi qua di lateralizzazione non ci muoviamo praticamente è inutile ci sono troppe ipotesi altrove magari è più rapida la cosa ma ribadisco ognuno ha la sua scelta io faccio entrambe mi piacciono entrambe per cui come detto vediamo se parte il rimbalzino perché hanno fatto un finto secondo t-3 e andiamo dove vi ho detto quarantesima barra guarda caso candelina verde ok poteva arrivare alla quarantaquattresima e poi ragioniamo dove siamo quanto tempo abbiamo per fare il baffo di salita della chiusura del t-3 e guardatevi di sadaku ci sono sempre easter egg nel mio canale ovunque buona giornata a tutti e buone riflessioni grazie a tutti grazie a tutti